Come sono i rapporti tra i team privati e Swiss Tennis? Secondo lei la federazione deve occuparsi attivamente dello sport di competizione? Un giocatore di tennis non ha nessuna chance se non ha il sostegno dei genitori. L'individualismo in questo sport inizia molto presto. Basti pensare che ogni bambino ha orari di gioco diversi e quindi i genitori devono per forza optare per un accompagnamento individuale. Nello sci alpino se c'è una gara tutti salgono sul bus e si recano sulle piste e possono optare per un'attività congiunta. Nel tennis non lo puoi fare, è per questo che senza genitori non può funzionare. C'è poi il fattore finanziario e qui arriviamo alla federazione che dovrebbe sostenere concretamente gli allenatori che si occupano dei singoli oppure coloro che lavorano nei centri regionali. In Ticino ad esempio c'è Emanuele Azzardo che allena un paio di ragazzi talentuosi e dovrebbe essere aiutata dalla federazione. Basterebbero 2000 franchi al mese. Non è normale che Emanuele debba ancora fare la maestra di tennis per poter sopravvivere e allenare i talenti. Non è un problema limitato al Ticino. Lo dico da 20 anni, ma non cambia nulla. Lei chiede quindi un sostegno per gli allenatori, ma non per i giovani talenti. Esatto. Gli allenatori di successo devono essere sostenuti. L'allenatore di un ragazzo che raggiunge le semifinali o le finali ad un campionato svizzero deve essere aiutato. Ci sono talenti che a 13-14 anni interrompono la carriera agonistica perché la stessa comincia a diventare impegnativa dal punto di vista finanziario. Spesso i genitori si rivolgono a sponsor privati, senza i quali il prosieguo della carriera diventa molto complicato. È fattibile in Svizzera riuscire nello sport ad alto livello solo con l'appoggio della federazione? Pensando al tennis non conosco esempi di ragazzi che sono riusciti grazie al sostegno della federazione. Non conosco esattamente il percorso di Federer, che si è allenato al centro di Bienda quando aveva 14 anni. Gli altri giocatori svizzeri come Schnieder, Martina, Wawrinka, Wachinski oppure Belinda Bencic sono tutti arrivati al traguardo grazie al sostegno di privati e senza un vero contributo della federazione. Cosa pensa la federazione di tennis delle sue idee? Non penso che mi ascoltino, non ci parliamo. E cosa fare per migliorare questa collaborazione? La federazione dovrebbe iniziare ad interessarsi alle mie idee. Per fare questo ci dovrebbero essere meno persone. Secondo me i soldi che sono investiti a Bienda dovrebbero invece essere suddivisi nei vari centri regionali. Ma questo non lo faranno mai, non c'è interesse. Per fare un'interesse.